Ciao a tutti, sono Francesco Di Fulvio. Vorrei donare il mio costume, quello che ho usato durante la finale dei campiati del mondo di Guangiu 2019, per sostenere la raccolta fondi, la palla a nuoto contro il coronavirus. Andate sul sito www.fondazionecristianotosi.org per scegliere l'ospedale a cui volete donare. Io ho scelto quello di Pescara. Mi raccomando, siate generosi e uniti ce la faremo.